Buonasera a tutti, oggi parliamo di scuola, ne parliamo con un preside, con un docente, io ve li presento, sono qui studio con me, Salvo Chiaromonte che prese il liceo classico Meli, Salvo Intravai insegna matematica e fisica al liceo scientifico Cannizzaro e scrive tra altre giornaliste, scrive anche sul Repubblica, è proprio da un articolo scritto da Salvo Intravaia sul Repubblica che io ho tratto lo spunto per organizzare questa trasmissione, l'articolo di cosa parlava? Parlava delle iscrizioni nei licei dei giovani per quanto riguarda l'anno che è in corso, l'anno che è successo, 2013-2014, diciamo che quest'anno c'è la grossa novità dell'iscrizione online che ha dato qualche problema, però penso che per quanto riguarda i licei questi problemi sono stati facilmente superati, tant'è vero che siamo in possesso di questi dati. Che cosa emerge dall'articolo di Salvo Intravaia? Che c'è praticamente una scelta da parte dei giovani per i licei linguistici e gli ex magistrali, meno per i licei classici, anche eppure meno per i licei scientifici, fa eccezione il Cannizzaro. Ecco, se Salvo vuole parlare di questo argomento così poi ne introduciamo altro per capire qual è lo stato di salute della scuola italiana, ma soprattutto palermitana. Sì, diciamo che queste prime iscrizioni online hanno dato l'opportunità al Ministero stesso di avere i dati prima, ecco, e anche alle scuole di avere i dati momento per momento. Le iscrizioni si sono chiuse il 28 febbraio, ma già a quella data le scuole sapevano quante iscrizioni in prima avrebbero avuto a settembre. Facendo poi un po' di conti, diciamo qualche settimana dopo, abbiamo visto scuola per scuola che l'anno prossimo i licei classici avranno un calo di iscrizioni, i licei scientifici un leggerissimo calo, diciamo, più o meno mantengono. C'è un boom di licei linguistici e di licei delle scienze umane che sono gli ex magistrali, tengono, diciamo, un po' gli istituti tecnici e calano un po' gli istituti professionali. Io credo che è la prima volta che si registra un calo, diciamo così, consistente dei licei classici dopo anni e anni di incrementi continui. E credo che questo sia molto legato alla crisi economica che sta attraversando un po', che sta colpendo il nostro paese, il sud. Il liceo classico è forse l'indirizzo scolastico delle scuole superiori, diciamo, prediletto da chi poi continua con l'università. Noi abbiamo visto che anche le iscrizioni all'università sono in calo e quindi ritengo che ci sia proprio un cambio di atteggiamento da parte degli studenti e da parte delle famiglie nei confronti proprio dell'università. L'idea, ecco, di puntare di più verso quei settori come il settore del turismo e quindi il liceo linguistico, che ha avuto appunto un boom, credo che sia dovuto proprio all'idea di poter avere un lavoro immediato piuttosto che di proseguire con l'università. Salvo, ci conosciamo da tanti anni, ci rincontriamo ora appunto dopo tanti anni e che idea invece tu dai, che lettura dai di questi dati, cosa ne pensi? Ma c'è da dire questo, che il MELI non ha mai avuto... Tra l'altro sei in una posizione, diciamo, di un osservatorio privilegiato proprio poi... Sì, privilegiato proprio per l'istituto in se stesso. Ripeto, questo tipo di situazioni si sta verificando almeno da un paio di anni. Quest'anno noi, come iscrizioni nuove, rispetto al 280... Parlo del quarto ginnasio, naturalmente, dell'anno scorso abbiamo ricevuto 240, quindi, ripeto, sono una quarantina di domande in meno. Ci sono varie spiegazioni a questo disamore per il classico, che poi non è che sia una cosa... e soprattutto la mancanza di indirizzi sperimentali. Quando sono stati tolti gli indirizzi sperimentali al classico, io parlo del Brock, che era veramente il fiore all'occhiello dell'istituto, la doppia lingua, e tutta una serie di cose, è chiaro che l'interesse per chi iscriversi al classico è quello che hai detto Tupo Canzi, cioè chi si iscrive al classico. Il ragazzo che, finito il diploma, continua con l'università per la sua strada. Non può essere visto il classico come qualcosa di antico, più legato all'antico e non proiettato verso il moderno, verso la globalizzazione? No, ma guarda, Filippo, il liceo classico, assieme allo scientifico, senza naturalmente nulla togliere gli altri indirizzi che sono per me tutti importantissimi, ci mancherebbe altro, sono comunque i due istituti che formano in maniera particolare un ragazzo. Il fatto di pensare al greco o al latino come a qualche cosa di ormai superato è assolutamente sbagliato, perché la formazione è tutta una serie di... Ma questo lo dici tu ed è vero, io ne sono convinto, però il giovane che deve decidere quando non è sorretto alla famiglia è più proiettato a decidere per i licei linguistici che lo lanciano in una dimensione più internazionale. Sì, Filippo, tu hai detto una cosa intanto sicuramente sacrosanta, la famiglia, cioè il ragazzo che esce dalla scuola media, nonostante gli orientamenti, tutte le varie cose che vanno dicendo, è nelle condizioni di effettivamente di scegliere quale sarà il suo futuro? E questa è una cosa. Il ragazzo che viene al classico spesso, spesso, è per volere della famiglia e non per sua scelta. E questo come ce ne accorgiamo? Ce ne accorgiamo nell'arco del primo quadimestre quando il ragazzo di latino e di greco proprio non ne vuole sapere completamente niente. E quindi è chiaro che magari lì si cerca di dare una mano per dire magari vuole fare qualche altra cosa e tutto il resto. Ma questa cosa da noi, ripetisco, non succede, non è mai successa. Quest'anno è venuta fuori con questi numeri così eclatanti, perché sono eclatanti nonostante siano 40 iscrizioni in meno, ma restano lo stesso eclatanti, un po' per quello che ha detto il professore Intravaia. E certo, iscrivere il figlio al classico con tutto quello che significa, con la spesa dei libri, con la spesa dei libri, di cose è importante. Poi c'è stata, non so se tu hai seguito un pochino questa telenovela sulla tassa di iscrizione che deve essere pagata, non deve essere pagata. Ma la cosa che mi sconvolge di più, per ritornare a Salvo Intravaia, sono gli istituti tecnici. Stanno sparendo? Sì, stanno sparendo veramente, perché per leggere i numeri più, diciamo, Pareto, per esempio, meno il 21-22%, Grassi il 33%, Crispi il 45%, il Ferrara completamente scompare, perché meno il 126%, scompare completamente. Sì, devo dire che questo è un trend che ormai si manifesta da anni. Ecco, i numeri, infatti credo che in questo articolo, credo di aver scritto in questo articolo, è la prima volta che, anzi in un articolo precedente, che in Sicilia i licei superano come iscritti i tecnici e i professionali, cioè noi abbiamo superato il 50%, mentre sappiamo che attorno agli anni 60 e 70 i tecnici e i professionali hanno fatto la fortuna anche di tantissime aziende, quindi hanno contribuito al boom economico. Ripeto, a mio avviso oggi le scelte, sono anche fortemente condizionate dal mercato del lavoro, cioè noi abbiamo un trend leggermente diverso, da noi i tecnici sono ancora in calo a Palermo città, in provincia di Palermo tengono e a livello nazionale sono in ripresa, perché probabilmente le famiglie e i ragazzi preferiscono investire, diciamo, su un percorso più breve. E infatti. Se debbano lavorare debbano andare fuori da l'isola e quindi questo incide notevolmente. Ecco, le nuove tecnologie come incidono sui nuovi insegnamenti scolastici? Dovete fare il conto ormai con queste tecnologie. Io non vorrei, diciamo, enfatizzare troppo sulle nuove tecnologie, ma non perché, tu parli con uno che è relativamente giovane per la scuola, perché insomma io ho 50 anni e quindi un professore di 50 anni nella scuola è relativamente giovane, o comunque sono perfettamente in media e quindi ho vissuto, diciamo, con le nuove tecnologie. Però c'è da dire che le nuove tecnologie si devono interfacciare con gli insegnanti. Noi abbiamo una classe docente, anche in Sicilia, che è anziana e la riforma Fornero, lo abbiamo visto in questi giorni, ha dimezzato i pensionamenti, cioè significa che noi tra dieci anni avremo insegnanti ancora più anziani. Quindi questo discorso delle nuove tecnologie è un discorso che va fatto, diciamo, a lunga scadenza, ma va, diciamo, coordinato con gli insegnanti. Io ancora ho colleghi che mi dicono che un computer non lo so neppure accendere, quindi come si può pretendere che facciano la lezione con la lavagna interattiva, che non sanno manco come si usa, per esempio. Noi ci troviamo con questi ragazzi che ormai sanno adoperare i nuovi mezzi tecnologici alla perfezione, mentre un corpo docente che, non dico nella maggior parte dei casi, che ha qualche difficoltà, arranca e che molte volte viene messo in difficoltà. Ecco, come viene vissuto, appunto, l'opera nella tua scuola, nella situazione del genere? Chiaramente è stato affrontato l'argomento. Sì, è stato affrontato anche perché il professore questo, il professore Entravaia, può confermarlo, se non credo che sia il prossimo anno, o fra un massimo di due anni, cioè l'insegnamento addirittura di una disciplina in lingua inglese da parte dei docenti. E insomma, a tutt'oggi, a tutt'oggi ancora, da parte del Ministero o dello Stato in genere, non sono creati, cioè non credo che tutti i professori sono in condizione di fare una lezione in inglese, ci mancherebbe altro. Da noi siamo, vabbè, anche lì abbiamo laboratori di informatica, abbiamo i laboratori linguistici, abbiamo tutta una serie di cose, ma è chiaro, come dice il professore, che la realtà di qualche docente che ha difficoltà ancora a confrontarsi con la tecnologia esiste e quindi c'è poco da fare. Allora, Salvo Entravaia è l'autore di questo libro, L'Italia che va a scuola, ecco, poi lo inquadreremo meglio. Io onestamente non ho avuto il tempo di leggerlo, però mi incuriosisce. Di che cosa parla? Io ho fatto una foto, dico sempre in bianco e nero, della scuola italiana, segnando e scrivendo un po' pregi e difetti della scuola italiana. È un libro, diciamo, per capitoli monotematici, quindi si parla degli studenti, dei capi di istituto, si fa esattamente lo stato dell'arte della scuola italiana. La scuola leggenda l'indice, l'indice è molto significativo. Esattamente. Ed è da che cosa partiamo per occuparci della scuola del futuro. Il docente, ecco, ne avevamo parlato poc'anzi, quasi, non avevo letto nemmeno l'indice, però in effetti il ruolo del docente. Il docente, io, c'è un paragrafo, è meridionale, donna e di mezza età. Ed è proprio, diciamo, ci possiamo ricollegare a quello che dicevamo un tempo poco fa. Cioè, noi abbiamo docenti, forse abbiamo, anzi non forse, in Italia abbiamo la classe docente più anziana, tra le più anziane d'Europa. Cioè, noi non abbiamo sostanzialmente docenti di ruolo, ovviamente, che abbiano un'età di sotto i 30 anni. Credo che ce ne siano pochissimi con età inferiore a 25 anni. Se andiamo a guardare all'estero, abbiamo centinaia di statistiche, e ci accorgiamo che l'età media dei docenti dei paesi dell'Unione Europea, non parlo di paesi di altri continenti, hanno un'età inferiore. Chiaramente questo favorisce, ecco, il rapporto con gli allunni e con gli studenti. L'indice parla molto chiaro, cioè molto indicativo. Se io l'avessi letto prima ti avrei fatto solo domande da qua, ma te li farò, perché la galassia dei precari. Sì, questa dei precari è una vecchia storia della scuola italiana. Abbiamo sentito tanti ministri che hanno detto io voglio eliminare il problema dei precari. Spesso, io sono molto critico in questo libro... Però voglio eliminare il concorso, il concorso... È una favola, nel senso che i precari dalla scuola non si possono eliminare. Assolutamente. Spesso chi va a fare il ministro non ha neppure idea di ciò di cui sta parlando. E io questo lo dico perché loro lo sanno, ecco. Non sto dicendo una novità. No, ma si può dire, tra l'altro. E spesso, loro parlano, alcuni parlano senza sapere appunto di cosa stiano parlando. Quindi, voglio dire, la scuola è organizzata in maniera tale da avere necessità dei precari. Certo, ci sono troppi precari, i precari fanno anche comodo perché quando si è tagliato sulla scuola si sono tagliati, parlo del governo Berlusconi, ultimo governo Berlusconi e dell'appendice del governo Monti, qualcosa come 87.000 posti di lavoro che erano 87.000 posti di precario perché non hanno tagliato, diciamo, i docenti di ruolo. Lui dice qua, quanto guadagnano, quanto lavoro e lavoro usurante. Sempre parlando per i docenti. Per i docenti. Chi meglio di te può sapere se è vero quello che scrive? No, ma sicuramente. Tra l'altro il professore ha un'esperienza da questo punto di vista che va ben oltre quella del capo di istituto, per carità. Il lavoro usurante c'è, anche perché abbiamo da fare adesso, caro Filippo, con una generazione che è assolutamente diversa dalla generazione che noi abbiamo conosciuto, ma anche vent'anni fa, già vent'anni fa la situazione, quando ho iniziato a fare il capo di istituto, i ragazzi erano diversi. Oggi c'è una situazione completamente, completamente cambiata. E nei confronti dei ragazzi, e nei confronti delle famiglie. Perché purtroppo i punti fermi, i punti che noi avevamo dei punti fermi, delle certezze che non esistono più, cioè non c'è più, non c'è più certezze. Quindi tutto è messo in discussione, dalla tassa alla richiesta della professoressa, alla richiesta della sezione, tutto viene messo in discussione e tutto è discusso. Quindi immaginiamoci, se gli incontri con i genitori diventano effettivamente dalle volte dei veri e propri scontri e non al contrario, già questo te lo dice l'Umbria. Poi figuriamoci un professore precario, che già la famiglia quando sente il professore precario, ah vabbè allora questo è un professore che non fa niente. Perché questa è l'immagine del professore precario, uno che non fa niente. E non è così, assolutamente non è così. La scuola spiegata ai genitori è proprio un capitolo appunto che parla di questi rapporti con i genitori. Oggi abbiamo noi un contenzioso, diciamo con i genitori, che era impensabile 20-30 anni fa. Io ricordo che mio padre non mi dava mai ragione qualunque cosa fosse accaduta a scuola. Ricordo che andavo a casa, sai il professore mi ha detto questo e lui mi ripeteva e mi diceva sempre, il professore ha ragione. Oggi avviene esattamente il contrario e purtroppo i giornalisti hanno coniato la dicitura, i genitori sono sindacalisti dei figli, quindi vengono a scuola, mettono in dubbio un po' tutto. Il problema è che noi insegnanti abbiamo bisogno del supporto dei genitori. Per carità, quando sbagliamo e gli insegnanti sbagliano, è giusto che si faccia notare. Però mettere in discussione tutto diventa deleterio, anche per i ragazzi stessi, perché poi i ragazzi parlano spesso per quello che sentono dire in famiglia. Quindi se in famiglia c'è questo clima di sfiducia nei confronti dell'insegnante o della scuola, a prescindere, il ragazzo lo fa su e diventa tutto più complicato in classe. E poi il ruolo delle amministrazioni, noi ne abbiamo trattato in passato di questo argomento, cosa è cambiato? Per esempio mi riferisco al problema dei disabili. Se l'assistenza dei disabili ormai viene svolta in maniera efficace, ci sono sempre problemi di assistenti e di altre cose. Filippo, per quanto riguarda, posso dirti quella che è la nostra esperienza in questo senso? Intanto al Classico e al Meli in particolare abbiamo soltanto pochissimi disabili che arrivano. Quelli che arrivano, qualcuno è sorretto da personale della provincia. Sì, l'unica cosa, credo che forse debba essere rivista, ma credo che lo stiano facendo, quando assegnano la persona che dovrebbe occuparsi del ragazzo o della ragazzina, non so perché non hanno tenuto conto se la ragazzina ha bisogno di una donna, il ragazzino ha bisogno di un uomo e quindi sono successi un pochettino del... Rimane un argomento sempre delicato. Sì, molto 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 delicato. Anche perché qua il ruolo della famiglia finisce per essere maggiormente determinato. Eh beh, per forza, già la famiglia, intanto la famiglia chiede tutto, tutto alla scuola. Qualsiasi cosa è la scuola che deve provvedere, è la scuola che deve fare, tutta una serie di cose. Noi ci confrontiamo con l'amministrazione, che devo dirti per carità nel caso specifico abbiamo visto massima collaborazione da questo punto di vista, però noi abbiamo se no due portatori di handicap, quindi insomma... Ora diciamo che con la cancellazione delle province, chiaramente bisogna vedere le competenze a chi spetterà. a chi spetterà, dove arrivano, è chiaro. Che notizie abbiamo da questo punto di vista? Ma questa è una partita ancora da vedere. Cioè passerà tutto al comune oppure alla regione? Ci sono i consorsi, insomma si dovrebbero occupare i consorsi di queste competenze delle province. La città di Palermo che si creerà un'area metropolitana dovrebbe essere l'area metropolitana. Però rimane il fatto che per quanto riguarda la scuola ci sono troppe competenze, lo Stato, la regione, i comuni... Infatti quel capitolo, la scuola spiegata ai genitori, è questo. Io faccio un esempio, il genitore viene a scuola e dice mio figlio ha un banco troppo piccolo, perché diciamo nell'evoluzione degli ultimi 30 anni noi abbiamo alunni sempre più alti e i banchi sono sempre uguali, diciamo. Quindi io mi ritrovo studenti di un metro e 90, anche due metri, costretti a stare in banchi dove potevo stare io che sono alto un metro e 70, quindi hanno le gambe proprio che sbattono sul banco. E in pratica i genitori non sanno spesso a chi si devono rivolgere, non sanno che la competenza degli arredi è per esempio l'ente locale, quindi o il comune o la provincia. In effetti le competenze per quanto riguarda la scuola sono molto frazionate, quindi spesso le famiglie vengono a fare richieste a noi che noi come scuola non possiamo soddisfare oppure dobbiamo girare all'ente competente. Alcune cose sono di competenza del comune, l'edilizia scolastica nel caso delle scuole superiori della provincia, nel caso delle scuole medie e delle scuole elementari e materne come amiamo continuare a chiamarle noi, sono dei comuni, la riflessione scolastica è di competenza del comune, abbiamo mille competenze e quindi spesso il lavoro diventa più complicato anche per questa scuola. Si potrebbe semplificare, bisognerebbe accentrare le competenze in un unico ente, per esempio nel caso la regione dovrebbe provvedere a tutto perché altrimenti veramente un preside finisce per fare il burocrate solamente e non occuparsi di nulla dell'insegnamento degli indirizzi e degli orientamenti. Esattamente, qual è il ruolo del preside? Come è cambiato nel corso di questi ultimi anni il ruolo del preside? Ma guarda, io continuo a chiamarmi preside e non dirigente così come la legge, io sono continuato a fare il preside, ma effettivamente non faccio il preside perché il preside si occupava soprattutto di didattica, oggi il preside di tutto si occupa tranne che di didattica perché non ci arriva a fare didattica, visto che si deve occupare di tutto, deve occuparsi che la scuola intanto deve aprire, deve funzionare, deve occuparsi del personale, deve occuparsi di tutto quello che succede a livello di sicurezza, a livello di tutta una serie di cose che non stiamo qui a discutere e a fare perché per carità ci vorrebbe una trasmissione intera e forse non basterebbe. Devo dire quello che ho sempre detto e tu Filippo te lo dovresti ricordare, oggi proprio ma sempre le scuole funzionano soltanto per la buona volontà dei capi di istituto, perché i capi di istituto si assumono dalle responsabilità che vanno ben oltre quello che è la loro funzione, perché a cominciare dai problemi della sicurezza delle scuole, perché per carità le scuole sono tutte, mi pare che il professore dedichi un capitolo a questo discorso qua, ecco le scuole sono perché noi abbiamo una scuola, l'Meli, la terza scuola credo a livello nazionale per grandezza, la prima a livello di Sicilia per grandezza, ma i problemi dell'Meli sono tantissimi, lo sappiamo benissimo, la provincia cerca di fare quello che può, ma se tu pensi che la distribuzione del personale, l'ATA, parlo dei bidelli, chiamati bidelli ma con tutto il rispetto per carità, non si riferisce al metri quadri, noi abbiamo soltanto una colà che è 5.000 metri quadri, abbiamo 24.000 metri quadri di scuola e abbiamo gli stessi identici bidelli di una scuola che ha 4.000 metri quadrati, non è assurdo perché se si rifà un numero e questa cosa l'abbiamo, lo sto ripetendo, all'infinito, l'anno prossimo con questo fatto della riduzione, i bidelli saranno ancora di meno la scuola grandissima come Filippo deve funzionare. Che fine hanno fatti i bidelli? Perché ti poni questo interrogativo? Perché un tempo noi li chiamavamo bidelli e avevano, svolgevano mille funzioni, insomma erano anche di supporto un po', oggi sono collaboratori scolastici e in teoria dovrebbero essere adoperati solo per le pulizie e la vigilanza, anche in questo la figura si è evoluta, il numero dei bidelli è calato perché il precedente governo ha fatto un taglio, diciamo che è stato anche dichiarato illegittimo del 14% e senza tenere conto delle esigenze delle scuole, infatti il preside parla esattamente di questo, cioè oggi le scuole fanno fatica pure a rimanere pulite le scuole proprio perché i bidelli ce ne sono sempre meno, ecco anche loro hanno le loro responsabilità e magari in certi casi supportano fino a un certo punto l'insegnante, il capo istituto, i ragazzi. Lui parla anche delle scuole private, quale dovrebbe essere il ruolo delle scuole private? Come viene visto appunto dalla scuola ufficiale, la scuola privata? Guarda io non ho mai amato le scuole private e continuo a non amarle, quindi non è una questione di... la scuola è pubblica e deve essere pubblica, chi vuole, poi tra l'altro la nostra Costituzione lo dice in maniera così chiara, chi ha le possibilità vada pure alla scuola privata, ma sto fatto, ed è per esempio, visto che stiamo parlando di questa cosa, del finanziamento, mi dispiace, mi nimicherò non so quanta gente, ma non me non può fregare meno di tanto, perché la scuola privata deve, è privata, benissimo, allora tu chiedi la retta, quella che ai ragazzi, quello se lo può permettere, se viene alla scuola eccetera, ma la scuola è pubblica, i finanziamenti vanno alle scuole pubbliche, non alle scuole private. Quindi ho detto in maniera chiara, proprio meglio di così, perché noi abbiamo bisogno dei finanziamenti, perché altrimenti, scusami Filippo, perché hai toccato un punto dolente, perché altrimenti quando la famiglia si rifiuta di pagare il 100 euro di contributo all'iscrizione, ha ragione, perché la scuola è pubblica e gratuita, siamo d'accordo, ma quando l'ente preposto non dà i finanziamenti giusti alla scuola, io per fare funzionare la scuola, se non ho quei 100 euro che la famiglia dà come contributo, non posso funzionare e devo chiudere. Vediamo che idea su questo argomento, non so che cosa hai scritto nel libro. Io ho scritto parecchio e scrivo tantissimo sulle scuole private, vengo considerato quasi come un castigatore, un nemico alle scuole private. Devo dire però che il problema, parlo per esempio di Palermo, se fossero scuole private di qualità, potremmo anche accettarle anche come concorrenza positiva e propositiva nei confronti della scuola statale, come stimolo. In realtà però spesso non è così, spesso si tratta di scuole dove i nostri ragazzi delle scuole private e delle scuole pubbliche si vanno a rifugiare dopo un trimestre andato in maniera disastrosa nella scuola statale e questo avrà pure un significato. Si tratta di scuole, parlo anche delle scuole elementari che spesso danno dei servizi aggiuntivi, ecco che sono l'accoglienza, mezz'ora prima, la possibilità di lasciare il bambino un po' di più, quindi conciliano gli orari del lavoro dei genitori con quelli della scuola. Però io dico sempre una cosa, se un precario preferisce dopo alcuni anni di servizio nella scuola privata andare nella scuola statale, un motivo ci sarà. Non c'è dubbio. Le scuole statali, una volta noi l'abbiamo scritto, secondo le rette che chiedono, non possono pagare, nella maggior parte dei casi, non possono pagare gli insegnanti secondo il contratto delle scuole private, perché esiste un contratto, il che significa che sono spesso insegnanti sottopagati. Per concludere, 30 secondi, quale futuro immagini per la scuola italiana e palermitana? Ma Filippo, io dicevo poco fa, parlando con il professore, affronterò l'anno prossimo e sarà possibilmente il mio ultimo anno, perché poi mi manderanno in pensione. Io ci ho sempre creduto alla scuola, ci ho sempre lavorato e continuo a lavorarci finché mi sarà possibile, con entusiasmo e quindi auguro alla scuola, ma soprattutto alla scuola pubblica, sempre maggiori successi, perché così le intelligenze e le potenzialità che hanno i nostri ragazzi, se noi siamo riusciti a tirarli fuori, guarda che è veramente una meraviglia, però duole quando proprio le più belle intelligenze debbano lasciare questo paese e debbano andarsene fuori, perché qua non c'è niente da fare. Vediamo 30 secondi cosa ha scritto Salve. La scuola italiana arranca. Nel libro ricordiamolo, l'Italia che va a scuola. La scuola italiana arranca, questo emerge da tutte le analisi internazionali. Al sud ancora peggio, c'è una spaccatura netta tra la scuola del nord e la scuola del sud, tra le competenze degli studenti del nord e quelle del sud. A mio avviso bisogna prendere il coraggio a due mani e guardare oltre, guardare a un progetto che riguardi i prossimi vent'anni e fare le operazioni giuste fatte possibilmente da persone competenti. Perfetto, allora io ricordo ancora il libro scritto da Salvo Intravaia, l'Italia che va a scuola, e ringrazio i due ospiti per aver partecipato a questa trasmissione e tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Grazie a tutti.